Il magistrato mazzarese Salvatore Vella è il nuovo procuratore di Gela. 5 teatri del Trapanese da oggi sono monumenti nazionali, tra questi il Garibaldi di Mazzara. Domani al Teatro Rivoli di Mazzara la sedicesima edizione del premio nazionale Peschereccio d'Oro. Mazzara celebra da oggi la festa della Divina Misericordia. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Teleotto. Entriamo subito nel vivo del nostro telegiornale. Spaccio e detenzione di droga, 12 gli arresti a Palermo, a Ballarò scoperta una piantagione di cannabis nella chiesa sconsacrata di San Nicolò di Tolentino. Sentiamo. I carabinieri del comando provinciale di Palermo nel corso di diversi interventi hanno arrestato 12 persone accusate di spaccio e sequestrato 20 chili di stupefacente e 200 piante. Nella chiesa sconsacrata di San Nicolò da Tolentino, al Ballarò, i carabinieri hanno individuato una serra indoor di cannabis con circa 70 piante alte oltre un metro. Un rudimentale sistema di irrigazione, illuminazione e areazione era collegato abusivamente alla rete elettrica comunale. A Ciaculli, i militari della compagnia di Piazza Verdi, nel corso di una perquisizione in casa di un 32enne, hanno trovato una piantagione con 25 piante di cannabis e quasi 10 chili di marijuana già essiccata e pronta per la vendita. La coltivazione con lampade e sistema di aerazione e irrigazione era abusivamente collegata alla rete elettrica. Per il giovane è scattato l'arresto per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato di corrente elettrica. Nei pressi della stazione centrale, con l'intervento di un'unità cinofila del nucleo di Palermo, Villa Grazia, i carabinieri hanno arrestato un 22enne palermitano trovato in possesso di oltre 50 grammi di hashish. In un sottoscala del condominio sono stati recuperati oltre 5 chili di droga. Un altro ragazzo di 22 anni, anche lui palermitano, è stato arrestato allo Sperone perché sorpreso di notte per strada con numerose dosi di crack, cocaina e hashish, oltre a circa 160 euro in banconote di piccolo taglio. Un bimbo di 6 anni che l'aspetta a casa, una moglie Giulia in attesa del loro secondo genito. Una storia davvero drammatica, una tragedia che stringe il cuore, quella di Mario Abate, 36 anni, morto ieri sera in un terribile incidente stradale a Marsala. La terza vittima sulle strade trapanesi in soli 5 giorni. La vittima si trovava a bordo del suo scooter e procedeva in direzione Trapani quando ha impattato contro un'auto che stava per uscire dalla stazione di rifornimento che precede l'intersezione di contrada addolorata e subito dopo l'urto si è innescata la carambola provocando l'impatto 50 metri dopo con una seconda auto che procedeva in direzione Marsala. Una fatalità incredibile. Abate è finito sotto l'auto e per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto sollevare il mezzo. I sanitari del 118 hanno trasferito il malcapitato motociclista in ospedale dove poco dopo è deceduto. Il Tribunale del Riesame annulla l'ordinanza per l'imprenditore Cristian Valerio, manager di Citi Greenlight coinvolto nell'inchiesta sulla corruzione per l'illuminazione del comune di Trapani. Sentiamo. Nessuna ipotesi di reato e nessun grave indizio di colpevolezza, così il Tribunale del Riesame di Palermo con le motivazioni recentemente depositate è entrato nel merito della vicenda annullando le misure interdittive per l'ingegnere Cristian Valerio, manager messinese del colosso vicentino dell'illuminazione pubblica Citi Greenlight. Il manager cui era stato imposto il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale o uffici direttivi per un anno era stato coinvolto nell'inchiesta che aveva portato lo scorso gennaio agli arresti domiciliari. Misura anche questa poi revocata per il deputato trapanese della regione siciliana Dario Safina accusato con il manager di avere turbato l'asta pubblica relativa a un progetto di 17 milioni di euro per l'efficientamento e l'ammodernamento degli impianti di illuminazione del comune di Trapani. 20 pagine con le quali i giudici chiariscono la regolare e puntuale applicazione delle procedure relative al project financing, l'insussistenza di tutte le ipotesi di reato e la correttezza dell'operato di Valerio che sempre secondo gli stessi giudici non avrebbe ricevuto alcuna informazione segreta sulla procedura che non fosse già nella sua disponibilità, procedura per la quale nessun tipo di turbativa sarebbe avvenuta e nessun conseguente episodio corruttivo collegato. E' giunto morto all'ospedale di Caltagirone, il pensionato disperso nella notte tra martedì e mercoledì e ritrovato nelle campagne dai vigili del fuoco. L'uomo avrebbe compiuto 77 anni il prossimo mese di maggio. Si attende adesso l'esito dell'esame autoptico per capire quale sia stata la causa del decesso. Non è ancora noto il motivo dell'allontanamento dalla propria abitazione. A ritrovarlo sono stati i vigili del fuoco che hanno operato con il supporto aereo di un elicottero del reparto volo di Catania. L'uomo è stato individuato in una zona impervia e difficilmente accessibile proprio dall'equipaggio del velivolo incontrato a Valle delle Ferle. Immediatamente raggiunto il soccorso dalla squadra dei vigili del fuoco è stato trasportato con lo stesso elicottero presso il presidio ospedaliero di Caltagirone dove i sanitari ne hanno constatato il decesso. Cambiamo argomento. Il magistrato mazzarese Salvatore Vella è il nuovo procuratore di Gela. Il servizio. Il procuratore aggiunto di Agrigento, il mazzarese Salvatore Vella, è il nuovo procuratore capo di Gela. Lo ha deliberato all'unanimità il plenum del CSM. Dopo 12 anni, la città dei Templi e la sua provincia perdono quella che è considerata una memoria storica giudiziaria. Nominato magistrato nel luglio del 1999, è stato dal 30 aprile 2001 sostituto procuratore al Tribunale di Sciacca. Dal 29 luglio 2008 sostituto procuratore del Tribunale di Palermo con assegnazione al Dipartimento reati contro la pubblica amministrazione. Fra febbraio 2010 e maggio 2011 è stato applicato alla procura di Sciacca svolgendo le funzioni di sostituto procuratore in una situazione di gravissima carenza di organico. Dal febbraio 2011 al luglio dello stesso anno è stato applicato alla procura di Marsala con funzioni di sostituto procuratore. Dal febbraio 2012 è stato sostituto procuratore al Tribunale di Agrigento. Dal 2004 al 2011 e dal 2014 al 2016 Vella è stato più volte destinato in applicazione alla DDA della Procura di Palermo quale co-assegnatario di procedimenti penali per reati di criminalità organizzata di stampo mafioso. Dal 12 giugno 2018 Vella esercita le funzioni semidirettive di procuratore della Repubblica ha aggiunto occupandosi del coordinamento dei gruppi di lavoro ad Agrigento. Dal 25 marzo 2022 al 21 agosto 2023 ha assunto la reggenza dell'ufficio quale procuratore facente funzioni. Ancora disagi a Trapani per l'erogazione idrica due giorni senza acqua. Il servizio di distribuzione verrà sospeso da domani fino a sabato 6 aprile per ripristinare la condotta sulla strada provinciale Erice-Mazzara danneggiata il 30 gennaio da una ditta dell'Enel. Fino ad oggi il servizio è stato garantito da un bypass che ha assicurato la distribuzione dell'acqua in città. La regione siciliana chiede lo stato di emergenza al governo di Roma per la crisi idrica. Il governo regionale guidato da Renato Schifani ha chiesto lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica. Una decisione presa nel corso dell'ultima giunta in conseguenza al lungo periodo di siccità e alla rilevante riduzione delle riserve di acqua in tutta la Sicilia. L'obiettivo del provvedimento che adesso dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri è quello di garantire acqua potabile ai cittadini e l'approvvigionamento idrico ai settori agricolo e zootecnico oltre che alle imprese impegnate nei cantieri nell'isola. La siccità in Sicilia sta diventando drammatica, dice Schifani. La regione ha già messo in campo una serie di azioni per mitigare la crisi aiutando i settori produttivi e limitando i disagi ai cittadini. Ma servono anche urgenti interventi statali per operare su reti e sistemi di approvvigionamento idrico e per sensibilizzare i cittadini ad un uso più razionale della risorsa. Inoltre sono necessari sgravi fiscali e contributivi, moratorie e sospensione di adempimenti per le imprese del settore agricolo e zootecnico che sono in gravissima difficoltà. Una relazione della protezione civile regionale indica interventi a breve e a medio termine per mitigare la crisi che prevedono la riduzione dei consumi delle utenze idropotabili, interventi sugli invasi, campagne di informazione e sensibilizzazione per il risparmio, interventi per reperire risorse alternative, acquisto di autobotti e silos per la distribuzione in luoghi pubblici, utilizzo di pozzi e sorgenti, riparazioni di reti idriche, ammodernamento degli impianti di dissalazione nei siti dismessi di Porto Empedocle, Paceco, Trapani ed eventualmente anche Gela. Il costo delle azioni a breve termine è di 130 milioni di euro, mentre di quelle a medio termine è di 590 milioni di euro. La regione nelle scorse settimane aveva già dichiarato lo stato di crisi idrico sia per l'uso potabile che per quello agricolo-zootecnico, nominando anche due commissari. Per i settori produttivi interessati sono state avviate le procedure per provvedimenti per circa 5 milioni e mezzo di euro, che prevedono sgravi dai canoni, dei consorsi di bonifica e misure di semplificazione amministrativa. È stato costituito anche un osservatorio regionale sugli utilizzi idrici per monitorare costantemente lo stato degli invasi e delle riserve di acqua. Il mazzarese Alessio Rizzo è il nuovo comandante della Polizia Locale di Cesenatico e ha preso servizio lunedì 1 aprile per il primo giorno di questo suo nuovo incarico a seguito di una procedura selettiva. Classe 1991 e originario di Mazzara del Vallo, Rizzo in precedenza ha ricoperto per 7 anni il ruolo di vice comandante della Polizia Locale nel comune di Buccinasco in provincia di Milano. In precedenza Rizzo aveva prestato servizio anche come agente nel comune di Cerro Maggiore in provincia di Milano e come ufficiale nel comune di Mazzara del Vallo. Si è tenuta stamattina a Mazzara del Vallo presso la Galleria Sicilia al Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione dei lavori di valorizzazione e musealizzazione della Domus Tardo Romana e dei relativi mosaici sotto la chiesa di San Nicolò Regale. Ascoltiamo le interviste. Intanto, hai detto bene, la partnership pubblico-privato sta dando i suoi frutti, lo abbiamo già sperimentato in questi anni, ripristinando il patrimonio storico, culturale e monumentale della nostra città che abbiamo trovato abbandonato. La Fontana di Consagra, l'Arco Normanno, il Teatro Garibaldi, la Chiesa di Sant'Ignazio e adesso arriviamo finalmente ai mosaici di San Nicolò Regale. Dall'alto valore simbolico perché chiusi da decenni, proprio abbandonati, la struttura, l'involucro è già stata ristrutturata così come abbiamo visto e adesso è il momento di aprire un vero e proprio scavo archeologico. Lo facciamo grazie alla sponsorizzazione significativa di WSB, un importante player delle energie rinnovabili che stanno investendo nel nostro territorio, che hanno preso a cuore grazie all'intervento, all'azione promossa, io lo ricordo, dall'ex assessore Germana Abbagnato, con la quale abbiamo condiviso il sogno di riaprire al pubblico i mosaici di San Nicolò Regale. Questa volta con un impegno in più e con un grande obiettivo, aprire uno scavo archeologico che consentirà di vedere cosa c'è sotto la superficie che noi abbiamo conosciuto in tutti questi anni. Lo scavo nel progetto sarà fruibile al pubblico anche durante i lavori. Non so dare una durata di questo percorso perché in teoria noi iniziamo uno scavo che non sappiamo dove ci porterà. Potrebbe esserci la necessità, lo speriamo, di proseguire i lavori, di mettere altre risorse perché magari questo verrà richiesto. Speriamo di trovare grandi sorprese. Noi siamo convinti dell'alto valore storico e artistico di questa ex domus romana con questi mosaici. Abbiamo un tesoro nella nostra città, abbiamo cominciato il percorso di valorizzazione, non ci fermeremo certamente qui. Dal sopralluogo è emerso che chiaramente c'è uno stato di emergenza in cui versano i mosaici di San Nicolò Regale. Chiaramente con questa possibilità finanziaria di progetto gestita dal Comune abbiamo trovato la possibilità di poter fare dei saggi di controllo visto che i pavimenti erano stati rimossi, risollevati. C'è tutta una vicenda storica di San Nicolò Regale, anche degli antichi scavi abbastanza complicata e così noi abbiamo fatto dei sopralluoghi con Marco Correra della società archeologica che si occuperà di questi lavori e abbiamo posizionato dei saggi di controllo e si avvieranno quanto prima questi lavori che sono importanti perché è un modo di riaprire gli scavi alla comunità, poterli fare respirare un po' perché sono degli ambienti molto chiusi e anche con problemi di umidità, di conservazione e quindi attraverso questi lavori di controllo archeologico e di saggi potranno essere realizzate delle passerelle e tutta una serie di impianto logistico affinché insomma le persone possano fruire di questo bene. I lavori dalla nostra parte è stato tutto fatto quindi ora dipenderà dal Comune dare l'avvio ai saggi perché c'è tutta una politica, come dire, c'è tutta un'organizzazione e quindi quanto prima i saggi inizieranno e poi chiaramente ci sarà una tempistica che stabiliremo a secondo delle evidenze che usciranno fuori, però speriamo che insomma in tempi brevi perché è un'opportunità importante. L'ufficialità è arrivata ieri pomeriggio con una nota a firma di Francesca Lanza e Gabriele Albano per Castelvetrano Semplice e Francesco Casablanca e Filippo Carimi per Sud e Chiama Nord, il partito fondato dall'onorevole Cateno De Luca. Salvatore Ficili è il candidato sindaco della coalizione. Ficili è di Castelvetrano e pur vantando una notevole esperienza all'interno delle pubbliche amministrazioni è un volto nuovo nella politica locale, non avendo mai rivestito alcun ruolo politico. I teatri Sollima di Marsala, Selinus di Castelvetrano, Garibaldi di Mazzara del Vallo, Cielo d'Alcamo di Alcamo e il teatro di Segesta sono da oggi monumenti nazionali. Il Parlamento nazionale ha infatti approvato l'emendamento presentato nello scorso mese di marzo dalla deputata del PD Giovanna Iacono, emendamento frutto di un certosino lavoro di indagine svolto nei mesi scorsi con il deputato regionale trapanese DEM Dario Safina. Ascoltiamo la dichiarazione dell'onorevole Safina. Ma non posso che esprimere grande soddisfazione per il risultato raggiunto, grazie alla collaborazione con la collega onorevole Giovanna Iacono, che è stata eletta alla Camera dei Deputati nel collegio di Trapani e Grigento Caltanissetta. Abbiamo insieme verificato quali teatri potessero far parte di questo insieme di monumenti nazionali proprio perché teatri con importanti caratteristiche architettoniche, storiche, artistiche e dopo un confronto anche con gli operatori del territorio abbiamo inserito 5 teatri nella provincia di Trapani con un emendamento perché il governo e il centrodestra avevano dimenticato questi importanti teatri, in particolare il teatro Caribaldi di Mazzara, il Sollim, il teatro di Alcamo, il teatro Selinus di Castelvetrano e quello di Segesta. Quindi è un importante riconoscimento per il nostro territorio. speriamo che con questo provvedimento questi teatri possano ricevere quel supporto e quel sostegno che li può far divenire sempre più incubatori culturali del nostro territorio e perché no anche attrattori culturali, turistici e si possa in qualche modo costruire attorno a essi un'importante storia e cultura teatrale. Questo rappresenta anche un modo di lavorare, cioè lavorare insieme deputazione regionale, deputazione nazionale, territori e stakeholders significa mettere in campo una buona pratica politica. Dunque grande soddisfazione e speriamo che da questo provvedimento, come dicevo prima, possano provenire effetti positivi per il nostro territorio. Intanto questi cinque teatri sono monumenti nazionali e dunque la provincia di Trapani e le città di Mazzara, Alcamo, Calatafimi, Castelvetrano e Marsala avranno e godranno di questo importante riconoscimento. A Mazzara del Vallo domani la sedicesima edizione del premio nazionale Peschereccio d'Oro. Questa mattina sono venuti a trovarci in studio il patron dell'evento, i fratelli Piero e Natale Campisi. Ascoltiamo cosa hanno detto ai nostri microfoni. Tutto pronto per la sedicesima edizione del premio nazionale Peschereccio d'Oro 2024. Domani, venerdì 5 aprile, doppia giornata per questa Kermess. La mattina alle 9 in teatro ci sarà l'incontro con le scuole e gli artisti, i personaggi premiati, i giornalisti che si confronteranno sui giovani su varie tematiche, l'antimafia, l'immigrazione, il femminicidio e tanto altro. Una serata, quella delle ore 20 e 30, la seconda parte che prevede il galà delle premiazioni che sarà presentato dal sottoscritto con Giulia Cazzaniga della RAI e tanti gli illustri ospiti. Abbiamo Maria Rita Parsi, Toni Capuozzo, Luca Telese, Antonella Marascia, Peppe Ciulla, la memoria a Paolo Borsellino con Roberta Gattani e tanti, tanti illustri premiati. Monsignor Vitorrallo, ci sarà la squadra del Futsal Mazzara 2020 che ha vinto la Coppa Italia recente. Natale, tanti premiati per una serata di alta cultura. Allora, innanzitutto io volevo ringraziare Teleotto e il suo staff per averci dato la possibilità di esternare quando stiamo dicendo. Un ringraziamento particolare lo voglio fare a Piero Chiambretti che è il nostro padrino in tutta Italia e in tutto il mondo. Dopodiché, oltre a ringraziare Piero, abbiamo la possibilità di avere con noi in video e collegato a Maria Grazia Cucinotta. Abbiamo diversi personaggi e soprattutto ci hanno insegnato questo grande premio che noi daremo a un soggetto che sarà presente all'amministrazione. Ed è il premio insegnato dalla Camera dei Deputati. È un premio insegnato dalla Camera dei Deputati dove il nostro grande evento del Peschereccio d'Oro entrerà a far parte del circuito italiano. Dopodiché ci sono i saluti del Presidente dell'Arse direttamente e dopodiché abbiamo i nostri grandi sponsor. Quindi noi invitiamo tutta la città a partecipare perché l'ingresso è gratuito. Quindi mi raccomando di venire vestiti molto eleganti. Dopodiché non facciamo pagare il biglietto. Quindi tutto sarà trasmesso nelle reti internazionali e su Rai Italia. Quindi ne vedremo delle belle perché questa grossa novità che ci sarà, che è il Peschereccio d'Oro, diventerà itinerante. Quindi toccherà Mazzara, Roma e Miami. Quindi cosa succederà? Che la nostra città la faremo veicolare a livello pubblicitario, a livello planetario, con i fatti. Quindi molto interessante e ci saranno delle chicche che poi vi sveleremo durante la serata. Da oggi a Mazzara il triduo è la festa della Divina Misericordia. Questa mattina è venuto a trovarci in studio Don Antonino Favata, cappellano del presidio ospedaliero di Mazzara del Vallo. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni. Domenica prossima, 7 aprile, celebreremo la festa della Divina Misericordia come ogni anno per volontà di San Giovanni Paolo II. La seconda di Pasqua, la seconda domenica di Pasqua, è dedicata alla Divina Misericordia. Gesù che si mostra vivo appare alla comunità dei discepoli che hanno vissuto il trauma della sua morte, della sua passione. Ma Gesù è risuscitato e quindi questo messaggio, questa verità della nostra fede, riporta gli apostoli alla gioia e non solo, li rende testimoni di questo evento. Celebrare la festa della Divina Misericordia significa mettere al centro Cristo della nostra vita. E allora a noi la nostra cappella, la cappella dell'ospedale di Mazzara è dedicata a Gesù Misericordioso. Quindi da oggi prende via il triduo e poi domenica prossima la festa. Ci ritroveremo il pomeriggio nella parrocchia di Santa Rosalia per l'adorazione eucaristica, la coroncina alla Divina Misericordia e la messa, a cominciare dalle tre. La messa oggi sarà celebrata alle 18.30 dal vicario generale Don Gioacchina Rena mentre domani sera dal parroco di Santa Rosalia Don Antonio Civello. Sabato pomeriggio saremo tutti in cattedrale perché il nostro Vescovo Angelo ordinerà un nuovo sacerdote ecco per la nostra diocesi di Mazzara, un ragazzo di Castelvetrano, Don Daniele Laporta. Sabato sera invece ci ritroveremo sempre a Santa Rosalia per un momento di festa, di gioia. Ecco la serata sarà animata dal gruppo Tricche2 di Enzo Amato e Nicola Anastasi. Poi la domenica, festa della Divina Misericordia, nel pomeriggio ci ritroveremo tutti alle 18.30 per la messa presieduta dal Vescovo a Santa Rosalia e poi a seguire la processione con il simulacro di Gesù Misericordioso per riportare l'immagine di Gesù nella cappella dell'ospedale. Ecco è un momento in cui preghiamo, in cui ci affidiamo al Signore ma soprattutto imploriamo il dono della pace. Ecco Gesù rivelandosi a Santa Faustina dice che l'umanità non avrà pace finché non si rifugierà nella sua misericordia, cioè fin quando non faremo esperienza di un amore traboccante che si riverbera attraverso le nostre vite. Buona festa a tutti! Passiamo allo sport. Michele Mignani è il nuovo allenatore del Palermo. lo ha ufficializzato la società con un comunicato pubblicato sul proprio sito. Nel comunicato non c'è alcun accenno alla durata del contratto. Pare che l'ex Bari abbia firmato un contratto fino al 30 giugno con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A. Oggi Mignani, originario di Genova, dirigerà il primo allenamento e guiderà la squadra già contro la Sampdoria sabato al Renzo Barbera. Ed era questa l'ultima notizia. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo che potete continuare a farlo sul nostro sito web e sulla nostra pagina Facebook. Vi do appuntamento alla prossima edizione. Buona prosecuzione di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.